Cosa c'è stasera per secondo? Sorpresa per secondo, una sorpresa! I sofficini! I sofficini! Che secondo, i sofficini Findus? Li porti in tavolo e tutti cambiano faccia! Sorpresa, sofficissima sorpresa, sorpresa, tantissima dorata, che bontà! Sorpresa, sorpresissima sorpresa, sorpresa, morbidissimo ripieno, che bontà! Sofficini Findus, il buon secondo corripieno, ogni volta una... Sorpresa! Sorpresa!